Una riunione interlocutoria, ma la ricerca di uno stadio dove far giocare il Taranto FC nei due anni di chiusura dello Iacovone per i lavori dei giochi del Mediterraneo appare sempre più difficile. L'incontro, convocato dalla Comune a Palazzo di Città, assente il sindaco Melucci, ha visto la partecipazione del vice sindaco Azzaro, della vice presidente del Taranto Sapia, dei sindaci di Martina, Palmisano, Massafra, Quarto e Francavilla-Denuzzo e dei rappresentanti della struttura commissariale dei giochi. La riunione ha ristretto al minimo le possibilità. Martina e Francavilla non sono disponibili dovendo affrontare entrambe i lavori di miglioramento dello stadio. Per il Comune lo spiraglio si chiama Massafra. Una delle possibili soluzioni sulla quale comunque proveremo a lavorare in questi giorni, in questi mesi, è la possibilità di completare attraverso il terzo lotto, soprattutto del campo di Massafra, che era già prevista all'interno del masterplan dei giochi di Mediterraneo, quindi cercare delle ulteriori somme per rendere omologabile quel campo. Si attende pertanto una riunione di aggiornamento con il sindaco Quarto, ma per il Taranto è una soluzione irrealistica per i tempi e per la situazione logistica, come ha spiegato il vice presidente Sapia nel corso della trasmissione Rosso-Blu del direttore Gianni Sebastio. Teramo, secondo il club, è l'unica soluzione per non far morire la società. Poi se lo vogliamo fare pur parler, per dire poi alla stampa o fare comunicati stampa che abbiamo fatto una riunione per trovare una soluzione, è una riunione che non serve a nulla, a nulla, e noi ci siamo stancati di perdere tempo. Secco anche il presidente Giove. In questo anno e mezzo, due anni, dove andiamo a giocare? Cioè questa amministrazione dal 2019, oggi siamo a febbraio del 2024, ha avuto abbondantemente quattro anni a disposizione, ma da noi che cosa vuole?